Il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà insieme al consigliere metropolitano e sindaco di Cinque Frondi Michele Conia ha fatto visita alla Casa del Popolo Giuseppe Valarioti di Rosarno. Una realtà presente nella piana che da anni porta avanti attività sociali in nome del giovane ucciso l'11 giugno del 1980 per mano mafiosa. Da mesi ormai la storica sede, oggi gestita dall'Associazione Officina numero 8 che richiama il numero civico della via dove si trova la Casa del Popolo vive un momento di incertezza dopo che la fondazione che ne detiene la proprietà l'ha messa in vendita. Nel corso dell'incontro il sindaco Falcomatà e il consigliere metropolitano Conia hanno avuto modo di ascoltare i progetti che l'associazione intende promuovere da qui ai prossimi mesi. Per poter proseguire le attività però sarà necessario raggiungere la fatidica soglia necessaria all'acquisto del bene per salvare il presidio sociale. La Casa del Popolo, Giuseppe Valerioti, ha affermato il sindaco, è un presidio culturale e sociale che abbiamo il dovere di salvare. Un presidio che racconta la nostra storia, la storia dell'intero territorio metropolitano. Una storia fatta di lotte e conquiste, battaglie contro l'andrangheta e per la libertà, per il riscatto sociale e i diritti dell'intera comunità. E' uno di quei luoghi di socialità importanti anche per costruire il futuro, non solo quello di Rosarno, ma dell'intera piana di Gioia Tauro e quindi della città metropolitana. Dobbiamo salvarla non solo per salvare la nostra storia, ma perché da qui, attraverso le attività che quotidianamente l'associazione svolge, si può costruire un pezzo importante del futuro di questo territorio.